Le nostre liste sono stra-pulite. Penso di poter affermare con assoluta certezza che l'onestà è il nostro valore. E sono contenta che piano piano anche gli altri partiti lo capiscano. Diciamo che dovremmo ripulire un po' il Parlamento però, altrimenti non basta. Abbiamo visto la capacità di governo del Movimento 5 Stelle nei vari comuni in cui governa, da quella che si è dovuta dimettere perché aveva dei problemi legati alla mafia, a quegli altri a cui sono arrivati gli avvisi di garanzia, poi c'era quello che salva l'opposizione e si rubava i portafogli in palestra. Direi alla raggio, questa presunzione morale per cui o si è dei 5 Stelle o si è dei ladri non ha senso. Quindi consiglio prudenza. Dalla Lega in poi abbiamo visto che tutti i fenomeni che fanno la morale poi sono stati uccisi dalla morale stessa. Gira in rete un video di un consigliere municipale dei 5 Stelle che, quello che criticavano gli altri, andava a firmare in consiglio municipale per la presenza, se ne andava e poi ritornava per prendere il gettone. Ho letto, dice, se Grillo me lo chiedesse io me ne andrei. I romani devono sperare, se la eleggono, che lei non dica un Grillo oppure possono stare tranquilli? Ci stanno sfumando, risponda al volo, una battuta! Guardi, a Roma non si ruba solo con le grandi opere ma anche con le piccole opere. Bisogna riportare la legalità negli appassi, tanto nelle grandi quanto nelle piccole. Ma se Grillo le dice di andare via, va via i romani che fanno? La risposta è fondamentale. Se sono i romani a chiedermi di dimettermi perché ricevo un avviso di garanzia, chiaramente io rispondo ai romani e rispetterò quella che è la loro richiesta. Quindi non a Grillo ma ai romani? Se Grillo fosse interessato dai romani, i quali chiedono che Grillo intervenga perché la Raggi, i romani dicono che la Raggi si deve dimettere perché ha ricevuto un avviso di garanzia, se Grillo si rende portavoce dei cittadini romani ai quali io devo rispondere, è evidente che Grillo si renderà portavoce dei cittadini romani. Perdonatemi domattina alle 11, siamo qui, vi aspettiamo come sempre. Se Grillo fosse interessato dai romani, i quali chiedono che Grillo intervenga perché la Raggi, i romani dicono che la Raggi si deve dimettere perché ha ricevuto un avviso di garanzia, se Grillo si rende portavoce dei cittadini romani ai quali io devo rispondere, se Grillo fosse interessato dai romani, i quali chiedono che Grillo intervenga perché la Raggi, i romani dicono che la Raggi si deve dimettere perché ha ricevuto un avviso di garanzia, se Grillo si rende portavoce dei cittadini romani ai quali io devo rispondere, se Grillo si rende portavoce dei cittadini romani ai quali io devo rispondere,